C'è qualcosa di nuovo, Pier Mario? Sì, c'è il sondaggio da lanciare. Che sondaggio? Ma che costina a lanciare dei sondaggi? Non siamo mica Sky Sport 24? Eh, invece sì. Perché è su Renzo Bossi, che è il figlio di Umberto, che in settimana ha dichiarato che ai mondiali non ti ferà Italia. E quindi noi abbiamo preparato un sondaggio per vedere come la nazione ha reagito a queste dichiarazioni fondamentali di Renzo Bossi. Esattamente. E quindi com'è questo sondaggio? Te lo faccio leggere a te, se vuoi. Ma sta mangiando questo? Questo è di sopra che mangia? Questo non è mica un regista, questo è un ciccione malefico, lo sai? Non è mica un regista questo. Allora, Renzo Bossi, il figlio di Umberto Bossi, ha dichiarato che ai mondiali non ti ferà Italia. Come avete reagito a questa notizia? Non me ne può fregare di meno. Ho cose più importanti alle quali pensare, sti cazzi. Ah, bene. Allora, ricordiamo dove possono votare i nostri telespettatori. Su www.sky.it.it. Molto bene. Allora, andiamo subito dal...